Ehi, come stai? Benvenuta nel mio salone ASMR, io sono Chiara E oggi mi prenderò cura dei tuoi capelli in un modo un po' particolare, ok? In un modo decisamente ASMR E allora, prima di tutto, hai preso l'appuntamento come agenda? Abbiamo uno molto speciale, questo è il mio salone Allora, ancora un pochino perché non riesco Noi, aspetta, quando stai sfruttando Anche se lo sono Ok, allora Ok, ecco di qui 19.30, giusto? Ok Senti qua, sti qua Abbiamo i migliori accessori Ok Allora Tu mi avevi detto che volevi un semplice taglio di capelli, ok? Fammi vedere Ok, fammi vedere Fammi vedere Perfetto Adesso Sai cosa facciamo? Andiamo prima a spazzolarli un po', ok? Poi Li bagniamo un pochino Non vogliamo Non vogliamo lavarli, eccetera Perché di certo non abbiamo bisogno del phon ad agosto E poi Ah, lì Zacc, zacc, zacc Tagliamo, ok? Vedo che hai Un pochino di nodia Non ti preoccupare, adesso li scegliamo subito Ok E dopo vuoi giusto una spuntatina, magari La frangia Ok Giusto il ciuffo, va bene Effettivamente sta diventando un po' lungo Non, 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 non e ammogui ok 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 ecco qui adesso vi faccio tornare a vedere un attimo li bagniamo leggeramente e dopo cominciamo a tagliare la frase spuntare qualche doppia punta allo di che chiudi gli occhi i tuoi capelli sono umidini li spazzoliamo ancora un secondo per fare uniformare il liquido ok adesso quindi partiamo dalla francia ecco qua e ok ok ecco qua hai dei capelli qui stranamente più lunghi degli altri anche al centro della francia e non capisco assolutamente per perché ok di che lunghezza le vorresti ok ancora un po' sì mi ricrescono subito i capelli qui non ti preoccupare non faccio nulla di drastico semplicemente secondo me ok adesso io direi che possiamo tagliare un pochino le doppie punte che vedo in giro ok e dopo andrò semplicemente a togliere l'eccesso con il pennello sul tuo collo un po' sul tuo vito ti sono caduti un po' di capelli e poi abbiamo fatto con il pennello ok ok ce li ho fatti leggermente scalati come erano prime insomma ok ce li ho fatti un massaggio la testa un attimo diamo anche così un po' più di volume ai capelli ecco qua allora adesso andiamo a togliere giusto giusto i capelli che ci sono arrivati sul viso un po' sul naso ecco qua ecc o ok ok perfetto 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 sento che magari un massaggio alla testa la prossima volta ma si, settembre, ottobre ogni tanto un piccolo vizio ci sta guardiamo gli ottimi venerdì 12 o lunedì 15 se no passiamo a ottobre novembre il 16 di novembre no aspetta l'undici di ottobre alle ore sempre 19.30 ok allora perfetto già segnata allora alla prossima spero che tu ti sia rilassata e un bacio ciao 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 ciao